Upsa tutti, miei cari Upsinie, Upsine, come state? Oggi sono qui solo per voi, per un nuovissimo video e oggi ho decennato un nuovo video di Layered Sounds. In questo video praticamente farò due, tre, quattro, vedremo poi, trigger e lì sovrapporrò uno sull'altro. Anche le mie immagini proprio verranno sovrapposte, quindi ditemi poi nei commenti se questo video vi è piaciuto e se trovate l'idea carina. Quindi, senza dire altro, indossate un paio di cuffie o auricolari, stendetevi sul vostro letto e cercate di dormire. Quindi, chiudete gli occhi, chiudete gli occhi e io comincio con il primo trigger. Grazie. 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 Vi 일본i. Grazie. Cu-cu ooh. Cu-cu. Cu-cu. Adesso tocca a voi. Iscrivetevi al canale, se siete nuovi, per entrare a far parte della OOOPS community. E se siete dei maschietti, diventare i miei obsini, mentre se siete delle femminucce, diventare le mie obsine. Poi, lascia un bel mi piace se questo video ti è piaciuto e commenta qua sotto. Tutto quello che ti passa per la testa. Il video di oggi purtroppo finisce qua, ma se tu vuoi restare ancora insieme a me, io ti lascio di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist. E qua, da qualche parte, il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video che vogliate. Quindi, buonanotte ragazzi, buonanotte, un bacio. E noi ci vediamo al prossimo video.